L'Italia è un luogo al tempo stesso reale e immaginato, un mito vivente. Un luogo in cui i sogni nuotano sotto la superficie della frenetica vita quotidiana. Un luogo in cui la favola incontra la realtà sul accettolato di un villaggio medievale. Così come nel trafficato incrocio di una città moderna, dove passato e futuro sono collegati dallo scorcio di una decorazione architettonica. Ti senti pervaso dalla misteriosa sensazione di conoscere bene questo posto, sebbene tu non sia mai stato qui prima. Lo hai visto nei tuoi sogni. Puoi appena ricordarne il profumo. È inconfondibile, suggestivo, capace di portarti indietro con la memoria ad altri tempi e ad altre vite. Gli avvenimenti si raccolgono nelle ombre della sera, tra i filari di vite sul profilo di una collina. Visioni dei tempi andati ballano in una festa di paese. Miracoli si affollano intorno al vecchio venditore di ortaggi in un mercato del sabato. Religiose rivelazioni dormono nelle navate di una chiesa locale. Ti senti rapito nella magia di un istante, guardando con gli occhi socchiusi il miraggio nella nebbia brillante. Le qualità metafisicamente emblematiche dell'Italia hanno attratto artisti, scrittori, poeti e visionari per secoli. Bayron e Brodsky, Goethe e Thomas Mann, Turner e Corot hanno trovato una misteriosa fonte di ispirazione nella sua apparentemente spontanea fusione di natura e cultura. L'Italia mescola verità e magia in un potente cocktail che puoi avere per il prezzo di pochi euro. A mezzogiorno, seduto in un caffè all'ombra di una cattedrale, sulla piazza centrale di una tranquilla cittadina. Le spettacolari vedute e punti nascosti e intimi dell'Italia fanno pensare a un fondale teatrale disegnato dalle celeste mano di un genio inebriato, che mescola tutto in un collage di finestre di ogni forma e dimensione, archi e cortili, gulie e campanili, pietra e mortaio, mare e sabbia, terra e destino. Tutto ciò è intensamente mortale e tuttavia indubbiamente divino. Abbandonandoci al viaggio abbiamo l'opportunità di seguire Dante e Virgilio nel loro lento cammino trascendentale attraverso le profondità e le altezze dello spirito umano. Interrogando le immagini e il loro significato possiamo tentare di toccare ed evocare la fugace sostanza che risuona nel cuore di ciò che siamo veramente. Questa è l'Italia in poche parole e la provincia di Alessandria è parte di questo patrimonio. Grazie a tutti.